WOOOOOH cuando 와� aye I también ven todos los tenemos otra gente otra gang de aquí förs ... ... ... dietro 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 di me adesso c'è un'altra squadra sono qua sopra fuori uno sono più di un team raga dobbiamo andare via venite nell'altro building se ce la fate venite nell'altro building vi prego venite nell'altro building o ci crepate vi lascio tp appena ci siete tp pronto vai 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 andiamo via erano cinque persone ok stanno finendo l'altra squadra possiamo anche reingaggiare se volete torno con te c'è uno dietro anche quasi collocato vieni qua vieni qua vieni qua provare a stare bella bella lì mi stanno mirando ok da là dalla uno mi pusha vengo da voi rimanete lì rimanete lì preparatevi sul mio teleporter preparatevi sul mio teleporter e arrivo da voi io eccolo qua faggiano morti tutti c'è un'altra squadra c'è un'altra squadra vieni qua raga scappa 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 lui mi tira un phoenix tra poco eccolo hai fatto una granata sul portale no ma lo sanno che il teleporter è una brutta zona riingaggiamo eh sì sì è subito sempre lì sempre lì sempre all'uscita qua stanno salendo stanno scalando questo muro davanti a me eccolo what che sberlam ha tirato è l'ultimo lo devo uccidere io eh no è full è full è full beh una capi è tono grande nice altra squadra già ingaggio il mio teleporter non credo che lo riusciamo a prendere di fronte a me così siamo wow 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 ma ti hanno shottato con il cecco però metterti teleporter qui sopra si stanno patchando gli altri passi niente tutto bravo stanno fightando io sono lontano raga sto arrivando ho gente dietro di me può darsi qua vogliono luttare c'è una cassa attenzione guarda fuori uno fuori due dai dietro di te ho un hp vado giù io vado giù io invece non vado ok perfetto mica a me serve oh qua da me morto ok qua ci sono tutti dei loot box charge rifle sotto qua c'è gente che fight arrivo ho bisogno di vabbè fai non è andato ha una viola là c'è un altro dai uno vicino mi sa raid la tua destra forse ancora ce l'avrei ok sono con te sono con te sulla raid straitata straitata dentro la casa sta fuggendo vado all'altro lato sono dall'altro lato fuori uno ok sono morto e io vado madonna mia cattiveria voglio anche io fare una kill no sono due sono due sono due sotto abbiamo la lava e danno mamma mia che ignoranza raid mi sei piaciuto un sacco io sono tornato indietro tu invece la grinta me l'hai messa addosso di andare ancora sì ma le kill ve le siete spaccate sui due mani dentro si è anche una arrivo sì ma non li sento più cioè li ho sentiti ma beh no no se me l'hai rubata madonna mia fitto malissimo vogliamo pushare quelli arrivo non ho non ho niente raga io sono messo abbastanza bene arrivano loro da voi fuori uno fuori due uno no armor bella morto 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 lasciamo li lascio entrare da questa porta fuori uno no no what non so dove si con quanta vita mai più nella vita è una roba del genere no mi ha visto prima lui ma guardate che boiata com'è possibile stavo volando in quell'angolo da un'ora e l'altro mi ha visto prima mi ha fatto sentirmi non si sa ha i tp ha i tp si provalo dentro casa va che ci provo a scappare bella oh ah no questi sono altri questi sono quelli di prima niente io torno devo tornare a curarmi incredibile mi curo ma li stanno pushando alle spalle uno è uno scudi a sinistra è qua bella morto finalmente una viola tironade eh sono messi mi tolto l'armor mi tolto l'armor morto uno ah due qua ancora no baby colto un po' di armor a uno che ha la bengalore c'è altra gente dietro è tratto dentro dentro qua uno è qua ha un hp morto 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 la lifeline non ha più armor fuo che sberla questa poi te la insegno morto uno sono mutato mannaggia è vero è qua bella morto 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 arriva nooo ha un hp il pathfinder arriva io 100 punti li ho fatti anche se arriviamo al primo e secondi è uguale grande ah il mio clock down piglia di l'armor piglia di l'armor che è full bella ok sei uno contro uno si sta curando si sta restando è un self rest eccola che partita ragazzi che abbiamo tirato fuori per chiudere la serata pazza pazza Grazie a tutti.